Amici ed amiche di Globus Television e soprattutto di Calcionate, buon pomeriggio, ennesimo appuntamento con Calcionate Flash, ultimo appuntamento del mese di luglio ma staremo con voi naturalmente per tutta l'estate e anche l'ultima settimana del ritiro precampionato del Catania in quel di Assisi, saranno tanti gli argomenti di questa mezz'ora che avremo a disposizione come sempre a partire da quello che è già successo, ieri il secondo test match, la seconda amichevole per così dire del Catania in questa fase del ritiro precampionato, mercoledì ci sarà l'ultimo test più impegnativo con una pari grado e poi naturalmente ci occuperemo delle voci di mercato, ma non solo, andiamo in ordine di scaletta e prima di tutto vi ricordiamo come sempre i nostri punti di contatto, come contattare la nostra redazione, come interagire con la nostra trasmissione, eccoli qui i canali a vostra disposizione, se volete seguirci attraverso il Digitale Terrestre, per chi ha uno Smart TV e possiede naturalmente la tecnologia HBB TV, canale 1518 per la Sicilia, sintonizzatevi direttamente sul canale 15, andate poi in bassa a destra a trovare l'iconetta con Globus Television, oppure canale 268, stessa tecnologia ma il bucchè nazionale, quindi potete vederci sostanzialmente su tutto il territorio nazionale, poi il nostro sito ufficiale www.globusmagazine.it.it per seguire la live in streaming e poi sulle nostre piattaforme naturalmente di riferimento che sono Twitch, TV Dream, Facebook, Local e Cyborg TV, anche con Cyborg TV potete seguirci in altri continenti, vale a dire USA, Canada, Australia, ma naturalmente anche in Europa e poi attraverso il telefonino scaricando gratuitamente l'app per Android ed Apple che è Globus Network Italia. Se volete interagire con noi invece potete sicuramente utilizzare il numero WhatsApp che adesso andrà in sovraimpressione, il numero WhatsApp a vostra disposizione 340 051 1286 o utilizzare come sempre la nostra pagina Facebook di riferimento che calcionate i commenti in casa rossazzura. Allora abbiamo detto praticamente tutto in apertura di questo appuntamento, subito andiamo a vedere quello che è successo ieri, secondo test match di questo avvio di campionato, l'allenamento di 70 minuti, test importante per capire a che punto è la tenuta atletica, poi sentiremo anche le parole di Mimmo Toscano. Test match conclusosi 1-0 per il Catania con la rete che è stata siglata da Luperini. Queste sono le immagini che naturalmente ci fanno vedere anche un po' la sintesi e l'atmosfera che si respirava ieri per questo test precampionato alla presenza di circa 400 spettatori, vedete anche lì i vessili, la bandiera del Catania, la bandiera rossazzura e questa è la rete di Gregorio Luperini al quinto 1-0. Risultato che naturalmente la dice lunga o se volete anche corta su quello che in questo momento è la condizione atletica del Catania per i carichi di lavoro svolti in questa fase centrale della preparazione, comunque è un buon test di preparazione. Mercoledì altra partita con il Pineto pari grado formazione del campionato di Serie C che milita nel girone B. Queste ancora le immagini però abbiamo anticipato un po' quello che ha detto anche Mimmo Toscano, carichi di lavoro pesanti, la manovra ne ha un po' risentita, chiaramente non tutti erano a disposizione dell'allenatore, andiamo ad ascoltare le sue parole nel post partita. Il secondo allenamento congiunto conclude la seconda settimana di lavoro in ritiro con mister Toscano, tiriamo le somme. È stata la settimana dal punto di vista del lavoro intensa, dove i carichi sono stati importanti e anche oggi si è visto che la manovra non era molto fluida e non c'era ritmo nella circolazione della palla e anche con una squadra di categoria inferiore che se non muovi velocemente la palla e ti muovi velocemente dà la possibilità loro di difendere meglio. Sappiamo che ancora c'è tanto da lavorare, manca ancora tanto qualcosa per alzare il livello della squadra in ogni reparto, però sta procedendo bene il ritiro. Le sensazioni dal punto di vista anche dell'atteggiamento dei ragazzi? Sono stati concentrati, applicati, è normale che poi quando c'è le gambe pesanti la concentrazione deve essere ancora più alta e loro ce l'hanno avuta perché poi sì, nella costruzione siamo stati un pochettino con poco ritmo, però per il resto hanno cercato di fare le cose che abbiamo provato durante la settimana, hanno lavorato con impegno dal punto di vista fisico, grande concentrazione. Ripeto, ancora c'è tanto da inserire, tutto in organico perché in tanti ruoli e nei reparti dobbiamo alzare il livello, continuare a crescere giorno dopo giorno. Le condizioni di D'Andrea, costretto ad uscire anzitempo? Ma ha avuto un colpo al ginocchio, sentiva male, quindi abbiamo preferito non farlo continuare la partita, poi domani lo staff sanitario farà le dovute valutazioni e vedremo il da farsi. Domani una giornata di riposo, poi si entrerà? Dopo due settimane almeno un giorno di riposo ci vuole, perché queste ragazze stanno lavorando tanto. Si entrerà dopo nel vivo della terza ed ultima settimana di lavoro in ritiro, quali saranno le differenze dal punto di vista anche dei carichi e dell'obiettivo? Ancora saranno alti, perché la squadra ha bisogno, soprattutto la categoria e il calcio di oggi lo esige. La squadra deve essere dinamica, deve essere pronta dal punto di vista fisico e soprattutto dal punto di vista mentale. Queste le parole di Domenico Toscano, di Mimmo Toscano, raccolte naturalmente dal responsabile dell'area comunicazione Angelo Scaltriti. Torniamo a parlare allora di quello che sarà questa settimana che si avvierà di fatto domani, perché avete sentito Toscana ha detto c'è un giorno di riposo da osservare come giusto che sia, quella giornata di riposo è stata appunto identificata con oggi, da domani si riprenderà. I prossimi impegni dicevamo del Catania, mercoledì 31 sempre alle 18, l'altro test match con il Pineto, team abruzzese del girone B della Serie C. Poi più tardi vedremo anche come sarà lo svolgimento del mese di agosto, perché lì si entrerà ufficialmente nella stagione col primo turno di Coppa Italia preliminare, eliminatorio della fase nazionale, poi la Coppa Italia di Serie C e poi l'avvio della stagione del campionato. Adesso i temi più caldi, quelli che riguardano il calcio mercato, intanto un movimento in uscita ufficiale è quello di Emanuele Cicerelli che va alla Ternana e quindi questo è uno di quei colpi in uscita, per così dire, la Ternana lo seguiva da un po' di tempo, quindi Cicerelli si è a casa alla Ternana. Altre notizie che riguardano rumors provenienti dal mercato, per dire che a proposito di uscite Welbeck che era stato odè ancora, ma di ufficiale naturalmente non c'è nulla, nelle mire del Taranto ha probabilmente altre richieste, una di queste riguarda il Monopoli, c'è una trattativa in corso con la squadra pugliese. Altra trattativa che sembra avviare delle mosse un tantino più decise è quella che potrebbe portare o quantomeno riportare invece Marsura all'Ascoli. E poi altre notizie riguardano altri movimenti di giocatori che in questo momento potrebbero in qualche modo fare la differenza in casa Catania, anche perché c'è una questione aperta che riguarda gli esuberi, ma di questo ne parleremo più avanti, anche perché a proposito di esuberi poi ci sono delle comunque dichiarazioni importanti da parte di Vincenzo Grella, perché è una di quelle questioni che in questo momento stanno davvero impegnando la società e che di fatto in qualche modo stanno bloccando un po' il mercato in entrata, soprattutto per quanto riguarda il rafforzamento del reparto offensivo. Andiamo a vedere però nel frattempo quello che è successo in concreto, ormai è storia vecchia, ma è bene riepilogarla, vale a dire gli innesti nel Catania di altre due pedine, Gerardi e Verna, quindi verosimilmente andiamo un po' a vedere le schede di questi due nuovi acquisti del Catania o a rivedere se volete, perché lo abbiamo già fatto nelle puntate precedenti, ma velocissimamente possiamo andare a valutare quelli che sono di fatto ormai colpi in entrata definiti. Ecco qua Mario Gerardi, il centrale difensivo che arriva a Catania è stato uno di quelle pedine seguite da tempo dalla società che va a rafforzare il reparto arretrato. L'altro giocatore importante che è arrivato alle pendici dell'Etna è Verna, anche per lui, eccolo qua, Luca Verna, il centrale di centrocampo, pedina fondamentale, probabilmente è lui che avrà, per così dire, nell'ipotetico schema scelto da Toscano, le chiavi del centrocampo, per cui, dicevamo, queste sono i due nuovi innesti in casa Catania. Andiamo invece a quelle che sono un po' le voci di Radiomercato, perché tra le voci di Radiomercato una che è balzata agli onori della cronaca riguarda il movimento della scorsa settimana qualche contatto per portare in rossazzurro, tentare di portare in rossazzurro Roberto Inglese, punta centrale, con una carriera alle spalle davvero di alto profilo, però sappiamo, a parte le voci di Radiomercato, che difficilmente Roberto Inglese può giungere a Catania, almeno in questa fase strategia della società, staremo a vedere, però è chiaro che è un nome importante, su Roberto Inglese naturalmente c'è l'attenzione di altre società, eventualmente il Catania deve battere questa concorrenza, ma avere anche un budget di tutto rilievo per arrivare al calciatore. L'altro nome è quello di Torregrossa, tra i tanti, no? Vediamo un po' anche le caratteristiche appunto di Torregrossa, anche lui è punta esterna, ma anche punta centrale, possiamo magari vedere la schermata tutto a pieno, perché così magari è più leggibile. Vedete le ultime stagioni al Pisa, ma poi Sampdoria, Brescia, qualche esperienza anche qui col Trapani e col Crotone e ad inizio quasi di carriera anche a Siracusa, quindi è un giocatore che ha girovagato un po' per tutta Italia, ma anche lui giocatore di grande esperienza, con un bagaglio tecnico molto interessante. Si arriverà a Torregrossa col Pisa, ci sono tutto da vedere. Ci sono altri nomi, possiamo fare un piccolo resoconto di quelle che sono almeno le operazioni che già da qualche tempo sono nelle mire della società etnea. Per quanto riguarda la linea difensiva probabilmente c'è ancora qualcosa da fare, si segue Scogliamiglio del Catanzaro, si segue ancora Cabianca della Virtus Verona e Casasola della Ternana. Per quanto riguarda il centrocampo faccio un passo indietro, parlo dei portieri perché al momento in Rosa il Catania ha quattro portieri, due giunti in questa sessione di mercato che sono Adamonis e Tirelli, ma in Rosa ci sono ancora Beters e Furlan. Per quanto riguarda il centrocampo, altro settore che è stato rafforzato con interventi mirati, però anche qui continuano a girare alcuni nomi, Adamo, Donnarumma del Cesena e poi c'è ancora Capomaggio dell'Audace Cerignola e altri invece si sono accasati, ma non è il caso più di ricordarle, in altre società. Lunga la lista degli attaccanti perché è lì che il Catania deve naturalmente intervenire e si sta cercando, ma non è mistero, lo abbiamo detto già nelle puntate precedenti, il profilo di un attaccante di grande prestigio, capace di arrivare a doppia cifra per così dire, di categoria, un attaccante che vede la porta. Ci sono tanti profili in questo caso, è ancora da valutare, diciamo che al momento Filippo D'Andrea dell'Audace Cerignola è l'unico acquisto certo, ma tra gli obiettivi abbiamo ricordato appunto Inglese e Toregrossa, ma c'è anche Ravasio della Lucchese, così come ancora aperta la pista che porta Guido Gomez del Crotone e poi Davide Merola del Pescara. Queste le indicazioni di Massima. Andiamo invece un attimo a salutare e a vedere i nostri amici, cosa hanno da chiedere, da dirci, interagire con noi attraverso il numero WhatsApp. C'è Salvo Pimpilo, Salvatore Mascali che salutiamo e ringraziamo, che dice Torregrossa inglese, ma così si fa la programmazione per il futuro, persone che sono ferme a sto punto, teniamoci di Carmine. Questa è la valutazione del nostro amico Salvo Pimpilo, però è anche vero che lo stiamo ribadendo ormai dall'inizio di questa stagione, sia Faggiano, sia la dirigenza, sia Toscano al momento hanno in gruppo 34 giocatori, si sta naturalmente lavorando e valutando profilo per profilo di quei giocatori che sono attualmente in rosa, molti dei quali almeno una decina, però per forza di cose ad inizio stagione non figureranno nella lista ufficiale dei 23, perché tanti sono i giocatori che possono essere messi in lista e quindi staremo a vedere. Poi c'è la questione del mercato in entrata, ancora aperto, ma il nodo è chiaro, lo ha detto anche Grella, nelle ultime ore chiaramente bisogna fare attenzione all'equilibrio del budget, nel senso che il Catania non può permettersi di sforare un ipotetico budget che comunque è già stato individuato nella misura in cui alcuni giocatori in uscita non dovessero trovare una soluzione alternativa a Catania, nel senso che potrebbero accasarsi prima della fine della sezione estiva del mercato. Questo consentirebbe al Catania di trovare anche una certa liquidità o comunque non avere il peso, perché alcune trattative sono con un'opzione che non va bene in questo momento al Catania, cioè quella di avere un prestito magari oneroso, dare in prestito un giocatore ad una società, il che significa che una parte dello stipendio deve essere sostenuto poi dalla società a calcio dal Catania FC. Ma questo, sia Grella che Faggiano, è una soluzione da estrema razio. In alternativa si cerca di favorire giocatori che possono trovare appunto casa in altri ridi e staremo a vedere. Si tratta poi di capire se alcuni giocatori, come Sturaro, fanno ancora il caso del Catania. Per quello che abbiamo capito, probabilmente Sturaro è uno di quei giocatori che viene attentamente valutato, perché ha giocato in tutti e due i test match, è un giocatore che lo stesso Faggiano ha detto senza mezzi termini di stimare, anche se sostanzialmente la sua esperienza a Catania da gennaio a fine campionato è stata sicuramente deludente. Staremo a vedere, staremo a vedere perché tanto c'è da mettere in questo calderone da qui alla fine della sessione di calcio di precampionato, quindi del ritiro. Andiamo invece adesso a vedere come in questo momento si compone la rosa del Catania. C'è una tabella che riguarda tutti i convocati, per così dire. In questa tabella rientrano nomi che conosciamo benissimo perché fanno parte del Catania, a tutti gli effetti sono contrattualizzati, importa appunto Betters e Furlan con Furlan che però potrebbe anche non restare, visto le mosse già del Catania in questo ruolo con l'avvento di Adamonis e Tirelli e poi c'è il giovane in questo momento in prova, Luc Zemis, ma teniamo sempre in grande considerazione Betters che lo scorso anno è stato sfortunato perché non ha potuto dare il meglio di sé per un grave infortunio. Per quanto riguarda invece i difensori, la lista è lunga nel senso che oltre Di Gennaro e Ierardi poi ci sono naturalmente Castellini, pedina inamovibile, così come sembra Bois tra quelli che possono sicuramente far parte della rosa a disposizione di Toscano. Non così invece per Curado che probabilmente lascerà Catania se dovesse arrivare un'offerta importante e poi c'è da valutare anche la situazione naturalmente di Celli, così come quella di Monaco, di Rapisarda che aveva richieste da Taranto, ma questa pista si è di fatto raffreddata e lo stesso Silvestri. A centrocampo gli arrivi più interessanti, Anastasio, Carpani, Di Tacchio e Verna. Dicevamo di Sturaro, abbiamo già detto, c'è da valutare poi la posizione di Tello, di Welbeck, abbiamo detto che ci sono contatti con altre società e poi Zammarini e Zanellato. Andiamo a vedere anche gli attaccanti a questo punto, schermata piena anche qua, così è leggibile e visibile a tutti e qui c'è D'Andrea, poi peraltro De Luca si sa che è uno dei partenti, così come dovrebbe essere uno dei partenti anche Popovic, situazione analoga per Chiricò su Cianci e per Alta c'è da fare una valutazione a 360 gradi. Fuori rosa, Costantino Di Carmine e Marsura, così rispondiamo anche al nostro Salvo Pimpilo che diceva di tenere Di Carmine, ma Di Carmine figura tra i giocatori già fuori rosa, per quanto riguarda i nuovi arrivi, diciamo che sono 10 più 1, tenendo conto appunto di Tirelli, i precedenti sono 20, i fuori rosa sono 3, il totale di 34 giocatori. Torniamo ai nostri social, vediamo di rispondere anche ai nostri amici che stanno interagendo con noi, Francesco Lippo, buon pomeriggio caro Sanza, rispondiamo tutti i presenti, abboniamoci, Vamos Catania, ti amo da morire. Grazie a Francesco Lippo che ha ricordato la nuova campagna abbonamenti appena avviata, più di 3 mila tessere già confermate, riconfermate, quantomeno anche i nuovi, naturalmente poi avremo i dettagli più in là, c'è da dire che si è partiti con il piede giusto, staremo a vedere poi, anche questa è una questione di battuta oltremodo, se la quota di abbonamenti sarà più o meno simile a quella dello scorso anno o se invece ci saranno altri dati. Da sabato riscaldiamo i motori, regaliamoci il Cagliari in Coppa Italia. Prima c'è da superare chiaramente un ostacolo importante come la Carrarese. Invece adesso, prima di parlare d'altro e fare il punto della situazione, come stiamo cercando di fare in maniera molto sintetica, facciamo gli auguri invece a Pierpaolo Alderisi, dovemmo avere anche una foto in tal senso perché Alderisi figura nota dalle nostre parti e se dico dalle nostre parti dico proprio non solo dal punto di vista calcistico in Sicilia e non solo, ma dico dalle nostre parti per dire che Alderisi è stato più volte anche ospite nelle nostre trasmissioni, molto noto e quindi questa è una bella foto, vedete Massimiliano Borbone, responsabile del Dipartimento Femminile del Catania Football Club, con Peppe Scuto e Pierpaolo Alderisi che sarà l'allenatore della squadra femminile della Catania Human, che milita in Serie C per la seconda annata consecutiva. Naturalmente tanti auguri in bocca al lupo per questo avvio di stagione, per tutta la nuova stagione per la squadra femminile rossa-azzurra. Andiamo avanti, vediamo se c'è ancora qualche altro messaggio e poi qualche altra notizia, ve la diamo subito perché c'è un comunicato che è appena arrivato, riguarda un po' il riepilogo di quelle che saranno le prossime sette partite ufficiali del Catania, vediamo un po' anche di leggerlo, se ce la facciamo e soprattutto ad aprirlo con i nostri potenti mezzi, evidentemente le pagine web sono bellissime ma se non sono complete c'è una difficoltà a leggere tutti gli appuntamenti che cerchiamo di recuperare, non c'è problema. Allora intanto abbiamo una grafica in nostro aiuto, ringraziamo per questo sempre Salvo Ferrigno che ci sostiene con le sue grafiche, il riepilogo del mese di agosto, sarà un mese importante il mese di agosto per l'avvio della stagione ufficiale, si parte con i preliminari di Coppa Italia Frecciarossa sabato 3 agosto, l'incontro tra Carrarese e Catania, ne ho promossa la Carrarese, vincitrice o vincitore della Coppa Italia di categoria il Catania, la vincitrice di questo incontro sfiderà domenica 11 agosto il Cagliari in Sardegna, poi invece la prima stagionale ma il secondo turno di Coppa Italia di categoria, domenica 18 agosto Catania con la vincitrice di Crotone o Messina che si affronteranno nel primo turno e poi il 25 di agosto il primo turno di campionato si giocherà in quel di potenza al Viviani contro il Sorrento, quindi gara ufficiale la prima della stagione. Andiamo a vedere ancora i nostri amici, altro messaggio di Salvo Pimpilo, la difesa non si discute con i nuovi innesti, siamo messi bene, centrocampo discretamente bene, io per alta lo confermerei, questa è la valutazione, l'analisi di Salvatore Mascali, ma l'attacco con chi si presume giochi titolare, cioè D'Andrea e Cianci, quest'ultimo infortunato non va per niente bene. Abbiamo fatto un discorso chiaro, abbastanza corposo ma in linea con quelle che sono le aspettative e soprattutto le strategie di calcio mercato che stanno impegnando tutta la dirigenza, il direttore sportivo Faggiano per cercare quelle pedine fondamentali, soprattutto quel bomber, la punta cosiddetta di diamante, si sta lavorando in maniera lacre in questo senso. C'è da dire che ci sarà ancora tanto da fare, ci sarà ancora tanto da capire in maniera certosina quali saranno i movimenti, perché lo ribadiamo anche fino alla noia, il mercato del Catania ha necessità di capire come muoversi in riferimento anche a tutti gli esuberi e sono troppi. Grella ha detto senza mezzi termini sulle pagine della Sicilia che evidentemente chi non riuscirà a trovare una sistemazione adeguata rischia davvero di restare fuori lista con tutte le conseguenze del caso. Staremo a vedere, ci sarà tempo per valutare, ci sarà tempo per definire questa rosa, è chiaro che però è indubbio che tutti i tifosi pressano sull'attaccante perché poi a stagione iniziata comincia davvero poi ad essere difficile, complicato, trovare nel frattempo altre società si stanno muovendo non solo di categoria. Questo è quanto, credo che il tempo a nostra disposizione sia finito qui, cerco conferme nello sguardo di Gaetano Ligreggi che come sempre cura la regia, per cui quello che era la nostra scaletta in merito alle ultime di calcio mercato sia in entrata che in uscita, a tutte le voci, a tutto quello che è in questo momento il nocciolo della questione che ruota attorno al calcio Catania, come sempre sia stato esaurito, abbiamo cercato di darvi in pillole l'informazione che ogni lunedì siamo pronti e certosini a darvi l'appuntamento è per lunedì prossimo a questo punto, ma domani la replica di questa trasmissione in chiaro su 7 Gold Telerente sul canale 15 del Digitale Terrestre. Da Salvorus è tutto, appuntamento alla prossima. Grazie a tutti.